Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione. L'apertura del notiziario è dedicata alla riconversione dello stabilimento Eni di Gela. Il cronoprogramma siglato lo scorso 6 novembre al Ministero dello Sviluppo Economico sarà rispettato, lo dice il sindaco. Angelo Fasulo, a breve saranno avviate le bonifiche e dentro giugno si terrà la gara per l'ISAF. Vediamo. Ci sono tutti i presupposti affinché il cronoprogramma relativo al protocollo Eni dello scorso 6 novembre siglato al Ministero dello Sviluppo Economico sia rispettato nei tempi e nelle modalità previste. E' quanto emerso dagli incontri alla regione dei giorni scorsi a cui è preso parte il sindaco di Gela, Angelo Fasulo. I due incontri importanti presso la regione, l'intervento di assessori e funzionari regionali per garantire intanto l'aspetto del programma. Devo dire che stiamo andando avanti con la giusta attenzione. La dimostrazione è che per esempio si sblocca l'attività che riguarda i dissalatori. Per l'ISAF le autorizzazioni seguono i tempi regolati e regolamentari e altre attività sono già pronte a partire. Si confermano i tempi del protocollo in materia di progettazione e attività ma questo deve trovare puntuale attuazione e conferma. Credo opportuno quindi informare sia la cittadinanza che tutti i soggetti politici che concorrono in questa decisione. E' prestissimo anche per definire le opere di compensazione. Ci sarà un nuovo incontro presso la prefettura per definire gli interventi oltre che comunicare quelli che sono i tempi di attuazione. Questo credo sia opportuno e necessario, questo stiamo facendo e al momento la collaborazione è totale e il risultato sembra raggiungibile. Ma ci vuole sempre la massima attenzione sapendo che parliamo di una riconversione importante. Gli interventi di massima fissati nel protocollo stanno andando avanti. È arrivata la deliberazione di aree di crisi complessa. Gli incontri presso il Ministero saranno fissati a breve ma già per la prossima settimana 4-5 riunioni nelle varie sedi degli uffici regionali per accelerare l'iter delle autorizzazioni e delle bonifiche come quelle dell'ISAF. Ma accanto a questo il cronoprogramma va aggiornato nel senso che va specificato attività per attività in relazione a quelli che sono gli sviluppi. E quindi, dicevo prima, già nelle prossime settimane avremo ulteriori dati che verranno comunicati in un'ulteriore riunione presso la Prefettura perché è giusto che anche la Prefettura, come è stato in passato, diventi la sede di confronto. Quindi andiamo avanti secondo quanto è stabilito ma soprattutto informando e tenendo costantemente aggiornati dei lavori tanto la nostra comunità, la nostra città quanto gli imprenditori ovviamente insieme a me continuano a lavorare anche le forze sindacali oltre che gli uffici competenti. Non si recava a svolgere il servizio con artifici e raggiri, false firme delle persone assistite sui fogli di presenza mensili e dichiarazioni false per avere svolto 268 ore di assistenza e indotto in errore funzionari addetti del Comune di Gela procurandosi in danno dell'ente pubblico, un ingiusto profitto della percezione del corrispettivo delle ore dichiarate ammontante a quasi 3.500 euro. Protagonista della vicenda è un'operatrice ex reddito minimo di inserimento. La procura di Gela diretta da Lucia Lotti a conclusione delle indagini ha chiesto il rinvio a giudizio della donna incaricata dal Comune di Gela per l'assistenza domiciliare agli anziani e alle persone disabili. Le indagini hanno avuto inizio su input del settore servizi sociali del Comune che nell'ambito dei controlli effettuati al fine di accertare l'effettiva osservanza delle disposizioni impartite agli operatori incaricati avevano appurato che la donna non si era recata presse il domicilio di un disabile. Gli accertamenti poi sviluppati dalla Polizia di Stato della Procura della Repubblica, una volta acquisiti atti presso il Comune, hanno fatto emergere ulteriori illeciti. L'operatrice, non avendo espletato il servizio presso altri 4 utenti disabili, al fine di percepire ugualmente il corrispettivo, aveva a posto, come dicevamo, le firme false degli assistiti sui fogli mensili che dovevano riscontrare l'attività svolta. Cambiamo argomento, adesso vi proponiamo un servizio sulle condizioni in cui versa un'area del cimitero Farello nella quale sono sepolti i bambini nella zona, c'è erba incolta, in alcune aree talmente alte da seppellire pure le croci delle tombe a terra. Vediamo. Indignazione, altro vocabolo non possiamo utilizzare per commentare quello che la nostra telecamera ha ripreso questa mattina al cimitero Farello di Gela. La zona in cui riposano in pace i bambini morti subito dopo il parto è contraddistinta dall'erba incolta in alcune aree talmente alta da seppellire pure le croci delle tombe a terra. A denunciare lo stato di incuria attraverso i nostri microfoni è stato il padre di un piccolo. Nessuno di competenza, anzi a quelli di competenza li volevo proprio ringraziare, ringraziare per quello che vedo. Quello che accade al cimitero di Farello è sinonimo di mancanza delle più elementari norme riferite alla polizia. Io ho pulito tutto come vedete, come vedete dove c'è il mio figlio, ma non posso pulire altrove perché è proprio una vergogna. Una vergogna vera e propria di quello che succede qua. Ho fatto quattro richieste di cui ad oggi nessuno mi dà risposta. Come vedete è sempre tutto sporco, non so a chi mi devo rivolgere. E lei le richieste chi le ha fatte? Presso dove c'è il lungomare, all'Urpe. Ho fatto quattro richieste di cui uno ho parlato anche a telefono, però niente, ad oggi sempre niente, viene la vergogna. Seguiamo questa vicenda per il rispetto che è dovuto ai defunti, ma per occuparci anche dei comportamenti omissivi di quelle che sono le minime regole che andrebbero rispettate in una società semplicemente civile. Non si vede un defunto, un bambino, un angioletto che dovrebbe essere pulitissimo, ma niente, niente, 4 o 5 volte che ho fatto la richiesta, ma niente che si vede. E questo è uno spazio dedicato soltanto ai bambini? Soltanto ai bambini, ma se non viene nessuno, da domani in voi mi armerò di prendere una zappa, il materiale necessario per pulire io qua. Da solo? Da solo, sempre da solo. Al comune io non c'ho proprio niente, perché già quattro volte ho richiesto al comune, quattro volte, perciò che cosa gli devo richiedere al comune o più? Non so che dire più. È una situazione che lascia interdetti? Vergognosa, vergognosa vera e proprio. Vergognosa vera e proprio. La prima pietra, dice Greco, innanzitutto si tratta di un istituto costruito quasi un secolo addietro. Inoltre, sottolinea, trovo risibile il fatto che si faccia clamore su un progetto di cui si parla da sei anni, mentre la scuola è chiusa da quasi sette anni. Le solite dinamiche dispendiose delle amministrazioni di centro-sinistra che, passando sopra ai loro errori e negligenze, presentano alla città i risultati finali, omettendo i passaggi intermedi, nei quali sono comprese spesi inutili, disagi per i cittadini e tempi morti per l'attività amministrativa, che invece dovrebbero giustificare al cospetto dei contribuenti. Perché, dice Greco, avviare lavori ricorrendo alla Cassa Depositi e Prestiti è un espediente tristemente noto alle amministrazioni locali e regionali di centro-sinistra. C'è una delibera alla 1644 del 23 giugno del 2014 che parla chiaro. In un primo momento, sotto la sindacatura Crocetta, era stato richiesto un prestito di 6 milioni di euro per la demolizione e la ricostruzione dell'edificio. Subito dopo sono partiti gli incarichi ai progettisti che hanno eseguito la loro prestazione d'opera. Poi, l'intervento di contenimento della spesa del Governo centrale ha imposto un'inversione di tendenza con l'assegnazione di una somma pari a 2.914.000 euro, che può coprire solo un intervento di ristrutturazione ed adeguamento alle norme di edilizia scolastica. Tutto questo, dice Greco, è avvenuto in sette anni e le perizie sismiche statiche ed altro non sono servite, visto che nel frattempo i progetti sono stati ridimensionati ma i tecnici che hanno lavorato ai primi progetti sono stati pagati a suonna di centinaia di migliaia di euro. A questi si aggiunga che sono stati spesi 1.600.000 euro per la locazione del Palazzo Pignatelli dove sono stati ospitati gli allunni appartenenti ad un bacino d'utenza lontano dalle loro abitazioni e disagevole per le famiglie. Ecco, conclude Greco, quanto ci costano gli errori di questa amministrazione. Solo al candidato Greco può venire in mente di dare una lettura negativa sulla riapertura di un edificio scolastico chiuso per l'appunto da otto anni e che finalmente viene restituito alla città. Si documenti meglio il candidato Greco, forse troppo impegnato nella campagna elettorale, magari si accorgerà che l'affitto pagato per i locali dell'Opera Pia era solo quello relativo ai locali dell'Ufficio del Lavoro e che nel frattempo questa amministrazione durante il suo mandato ha azzerato gli affitti di immobili privati. Risponde così il sindaco Angelo Fasula alle accuse lanciate dall'avvocato Lucio Greco riguardo all'attenzione che questa amministrazione ha dato alla qualità dell'istruzione. Continua il primo cittadino, oltre che come per sua stessa ammissione all'edilizia scolastica, si informi il candidato Greco con tutti i dirigenti scolastici, parli con loro delle tante attività organizzate in collaborazione con il Comune e della presenza fattiva e concreta dell'assessorato all'istruzione e ai servizi sociali. Si informi, si documenti e vedrà che cambierà idea, conclude il sindaco e magari la prossima volta non si presterà più così facilmente a queste operazioni di sciacallaggio elettorale che mortificano il livello dello scontro politico e offendono i cittadini. Ci auguriamo che il livello non rimanga questo durante la campagna elettorale. Al confronto sulle idee siamo sempre pronti, attendiamo fiduciosi proposte e programmi su cui dialogare. Era del 23 febbraio scorso la denuncia pubblica attraverso la nostra emittente delle condizioni penose in cui versa la statale 115 di Cata Gela-Vittoria. Un'arteria considerata ad alto rischio perché il suo tracciato è percorso giornalmente da migliaia di mezzi e la sua careggiata per certi tratti non risponde agli standard di sicurezza odierni. In quell'occasione sottolineiamo che la strada era piena di buche. A distanza di un mese ritorniamo sull'argomento perché nulla è cambiato, anzi tutto è peggiorato. Ci troviamo nei pressi del fiume Gela, le immagini sono eloquenti. Sul manto stradale in effetti non ci sono buche ma crateri e gli automobilisti che percorrono quella strada, e sono tanti, devono esibirsi in veri e propri slalom, zigzagando. Stiamo parlando, e lo ripetiamo ancora una volta, della strada che conduce allo stabilimento Eni e all'aeroporto di Comiso. Grosse voraggini che con le piogge diventano laghi al centro della strada. Un'arteria disestata che rappresenta un serio pericolo per automobilisti e centauri. Non è difficile immaginare che una di quelle grosse buche un giorno possa causare qualche incidente. Speriamo di no. E il rischio anche per le vetture di essere danneggiate. Esempi di strade groviera percorse ogni giorno. Qui invece siamo nei pressi della rotatoria all'ingresso di Gela, provenendo da Catania e dalla Ragusano. Quel tratto di strada è un vero e proprio campo di battaglia. Non c'è alcuna sicurezza. Un pericolo per chi vi transita. Non riusciamo a comprendere ancora una volta per quale motivo, al cospetto di qualche giornata di pioggia, le strade siano assalite da queste enormi buche, anche quelle rifatte da pochi anni. Chi ha la competenza, e lo ripetiamo insistentemente, intervenga subito, senza perdere tempo. Francesco Di Dio, componente della direzione provinciale del Partito Democratico di Caltanissetta, ha sollecitato un intervento alla sezione compartimentale di Catania, al commissario provinciale regionale di Caltanissetta, al presidente della regione, Rosario Crocette, al deputato regionale del PD, il gelese Giuseppe Rancio, per la presenza di Erbacce, al bivio Ponte Olivo, che impediscono la visuale degli automobilisti, provocando un serio pericolo per la circolazione stradale. Secondo giorno oggi della non-edizione dell'Agonne Schileo. Questa mattina si è svolta la gara alle 17, prevista la visita al museo e al parco archeologico, e alle 21.30, notte di Agonne. Professoressa, una gara di greco antico, per riscoprire anche le nostre origini. Il brano da dove è tratto, di chi è, ci può dare qualche informazione? Il brano è di Eschilo, naturalmente, il nostro liceo è intitolato lui. Nel 1993 si decisa di fare questa gara di greco, proprio per onorare la memoria, ma soprattutto i valori che Schileo ha portato avanti e che i nostri giovani, e spero i giovani in generale, portino avanti. Abbiamo scelto oggi, come commissione, un brano tratto dai sette contro Tebe. Si tratta del prologo, dove Eteocle parla, praticamente, descrive quella che è un'allegoria importante già nel mondo antico, l'allegoria della nave-stato che ha necessità di un kubernetes, cioè di un timoniere, che la guidi bene perché le tempeste sono sempre in agguato e lo Stato, così come la nave, possono cadere colare a picco da un momento all'altro. Abbiamo preferito vederlo, visto che siamo educatori, siamo parte di un liceo, solo dal punto di vista della nave come allegoria della vita dei giovani, che nel loro viaggio di crescita sono alle prese con delle tappe che a volte sono perigliose, le procelle sono in agguato, e devono avere un kubernetes qualcuno che li guidi in qualche modo lungo questo percorso. Quanti sono gli studenti in gara e da dove provengono? Quest'anno sono 21, provengono da vari licei, cioè Torino, Grosseto, Urbino e poi vari licei siciliani. Agone ha un significato politico completamente diverso perché significa mettere la nostra città in vetrina per le cose migliori che può dare questa città, che sono l'accoglienza, l'ospitalità, la capacità organizzativa, il coinvolgimento delle famiglie. Quindi Agone è certamente uno strumento didattico che ci consente di confrontarci anche con i licei classici di tutta Italia, ma vuole essere anche uno strumento di promozione sociale e culturale. Domani alle 8 partenza per Agrigento con visita guidata della Valle dei Templi e Colimpetra. Alle 21.30 al Cineteatro Antidoto di Macchitella è prevista la visione dello spettacolo teatrale Le Rane. La premiazione dei vincitori si terrà sabato 28 marzo alle 9 sempre al Cineteatro Antidoto di Macchitella. La Chiesa Madre viene restituita alla città. Dopo i lunghissimi lavori di restauro, oggi il grande portone della cattedrale si spalancherà ai fedeli. Alle 20.30 il raduno alla Chiesa del Rosario, poi la cerimonia di apertura con la benedizione dell'Aula Liturgica e del Lambone con Liturgia della Parola, presieduta dal Vescovo Rosario Gisana. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Il settore Servizi Sociali comunica che è stato pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla realizzazione di attività finalizzata alla distribuzione di viveri e beni di prima necessità a persone e famiglie indigenti nel quadro degli interventi sociali diretti al sostegno di persone e nuclei familiari che versano in condizioni di disagio sociale ed economico. Il Comune di Gela, anche per l'anno 2015, intende realizzare un progetto di distribuzione di viveri e beni di prima necessità in collaborazione con le parrocchie del territorio e con associazioni di volontariato, di promozione sociale e di solidarietà familiare che siano legalmente costituite da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio del Comune che siano convenzionate con banchi alimentari della Sicilia e che svolgono per fini statutari attività di aiuto in favore di persone e famiglie indigenti. La somma complessiva messa a disposizione dall'amministrazione comunale per l'attuazione del progetto è di 50.000 euro. Lava vetri per un giorno, questa la protesta provocatoria dei poliziotti e sindacalisti del SAP che armati di secchi e spazzoloni si sono ritrovati all'incrocio di Via Catania nelle vicinanze della Questura. Un'occasione per distribuire una parte delle 500.000 cartoline ai cittadini e agli automobilisti al fine di sensibilizzare il governo all'adozione di provvedimenti urgenti in materia di sicurezza resi ancora più necessari dall'emergenza terrorismo. La Camera dei Deputati, infatti secondo quanto riferito dal SAP, spende 7 milioni di euro per le pulizie però non si riescono a trovare 6 milioni per un corso antiterrorismo con il quale formare i 12.000 agenti in servizio di controllo del territorio. Una campagna nazionale che ha fatto tappa in città dopo quella a 7 forze di polizia grazie sull'accorpamento delle forze di polizia. Tra i punti inseriti nelle cartoline che da tutta l'Italia saranno poi sperrite a Palazzo Chigi la richiesta di bloccare la chiusura di 250 uffici di polizia assumere immediatamente gli agenti idonei e non vincitori sanare il sottorganico di 9.000 sovrintendenti e di 14.000 ispettori. Per il bene del nostro paese noi poliziotti siamo disposti a fare tutto oggi siamo in questo incrocio davanti alla questura di Caltanissetta laveremo i vetri dei cittadini in cambio non chiederemo dei soldi chiederemo che venga affrancata questa cartolina su cui ci sono dei punti fondamentali secondo noi per ripianare intanto la carenza di organico per formare i poliziotti con un corso antiterrorismo serio per uno sblocco del turnovere per l'immediata assunzione degli idoni e non vincitori gli agenti già pronti che potrebbero essere messi nel circuito e dare manforte alle nostre problematiche nei territori quindi oggi laveremo i vetri chiederemo ai cittadini di affrancare questa cartolina e inviarla al Premier Renzi vogliamo dare più sicurezza ai nostri territori e dare dignità ai poliziotti dare preparazione ai poliziotti noi non siamo preparati ad affrontare il terrorismo un corso di poche settimane anche online è inutile per la formazione dei nostri poliziotti ci vogliono delle risorse e chiederemo ai cittadini di aiutarci al nostro fianco per chiedere risorse a questo governo adesso la nostra consigliata rubrica in breve si svolgerà venerdì 27 marzo prossimo la via Crucis promossa dal Movimento Giovanile San Francesco di Gela l'appuntamento è previsto alle 20 e 30 in piazza Municipio il tema scelto quest'anno è Dov'è tuo fratello? la manifestazione è un cammino quaresimale in preparazione alla Pasqua vedrà tra le altre cose la partecipazione di diverse persone impegnate nel sociale diverse realtà giovanili della città che testimonieranno la sofferenza e gli ostacoli che quotidianamente la gente vive scuola e nuove tecnologie gli alunni digitali nativi tra rischi e opportunità è il tema del seminario che si terrà venerdì 27 marzo con inizio alle 15 presso la scuola secondaria di primo grado Gela Butera diretta da Agata Gueli relatore sarà il sociologo Francesco Pira docente di comunicazione all'Università degli Studi di Messina che ha coordinato sul tema numerose ricerche e firmato diverse pubblicazioni ritorna all'appuntamento con la Primavera Creative la mostra di oggetti realizzati a mano dalle 20 donne che compongono l'associazione presieduta da Rita Cannarozzo l'iniziativa giunta alla sua seconda edizione propone anche quest'anno manufatti dei colori vivaci in perfetta sintonia con la stagione primaverile fra le novità di quest'anno le socie impartiranno gratuitamente a bambine e ragazzine i primi rudimenti dell'arte del feltro del pannolence e dell'uncinetto la mostra che si terrà all'ex chiesetta San Biagio sarà aperta al pubblico da venerdì 27 a martedì 31 marzo dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 e nel mese di aprile da venerdì 10 a domenica 12 e poi ancora sabato 18 e domenica 19 sabato 28 marzo intanto e domenica 29 a impreziosire l'esposizione ci sarà l'istituto alberghiero che proporrà le specialità dolciari e pasquali frammento e sistema è il titolo del libro di Roberto Fai che sarà presentato sabato 28 marzo prossimo alle 17.30 presso la libreria Mondadori di via Cairoli a Gela sarà presente l'autore e il professore Marco Trainito Mercatino di Pasqua a Gela si svolgerà fino al 6 aprile prossimo nel piazzale dell'istituto su Orteresa Valse di Macchitella l'organizzazione è affidata alla Holiday Web previste sagre degustazioni, esposizioni, musica, arte e cultura il cartellone prevede venerdì 27 marzo alle 21 lo spettacolo di Carlo Caneba domenica 29 la mostra di cavalli a cura dell'associazione Amici dei Cavalli e sabato 4 aprile alle 21 lo spettacolo del cabarettista Giovanni Cangelosi Siamo all'informazione cinematografica John Wick il film in programmazione al Cineteatro l'antituto di Macchitella a Gela sono 3 gli orari di rotazione della pellicola 17.30, 19.30 e 21.30 termina qui il nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci a domani